come dimenticarsi di quel lavoro chiaramente best life con Fiora ho capito grazie senza del sub è venuto anche a te che è il missed playoff allora vuole fare late invade se viene anche io su va bene hello raramente 30 secondi until minions spawn allora di abba Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi cato perché per un attimo ho pensato ok va meglio e invece poi alla fine con Rakan che è arrivato e ha fatto la double kill fa una schifezza. Cioè sono un po' stirato la counter e è stato fine alla fine. Grazie a tutti. Credo che avvenzi a bot side. Dovrebbe essere bot side. Non volevo castastra la doppia boom ma me l'ha messa in... come si dice? Grazie per gli stab. Avete capito credo. Grazie a pollo già di skipper. Ma 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 basta smettila smettila scuttle. Ed ecco perché su Kayn si maxa la coup. G2 è niente mondiali no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è stato un po'. C'è stato un po' di hinting. Erano disgustosi i game. Erano veramente disgustosi a vedere. Guardate la sister Ellie. Ammazzatevi andando verso edge. C'è stato un po' di hinto. Perchata. Co' di hinto. Ripa. Cro treffen. Ci sono una fama fatti forti E il fatto ci fosse Karma di paraggi ma Mi sa che era venuto andare bene con quella vita Una morte un po' sciocchina Ok No va bene colpa mia Lì non ci dovevo andare Era semplicemente da resettare Ho perso tempo e mi sono pure ammazzato Figurati Ora levo quella roba lì dietro Se è vero ma giusto Quel tempo a stamping Dove non fingerei essere gancato No va bene colpa mia No va bene colpa mia Andremo Bot però non dovrebbero perdere Ragazzi Sofaita è venuto a vincere Yasomi spaiato Hard Va davvero ha giocato molto male Peccato Quando perdi un fight Che dovresti vincere È sempre brutto Perché Avven era al 5 Era al 6 Avevo rubato il campo Avevo doggiato All'ulti Irelia Quindi Sad Immagina chiamare Early Invade Early Invade Va male per colpa Della call Stare a spamminare Tutto il tempo E dare fastidie Gli alleati Yasu appena sbeato l'azione Vukong Pingame Ha anche scritto My bad Yasu Monka Shake E poi non siamo messi male Sto game È vero che Top l'oro è Anche il loro tizio lì È fidatino Però Insomma Shit happens Ecco Trado volentieri La mia vita Per forma È double kill Karma Poteva giurla meglio qui Comunque Super worth Bene Grazie a tutti La mia vita è diamine quanta gente che c'è grazie per il sub grazie Recon del sub perché Garmentop? ah stanno swappando allora ha senso era rischioso non volevo comittare non ho ancora swappato strano no non ogni battaglia è una combina oh sì grazie 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 un po' pure per lo la paura giustificata la paura giustificata la paura giustificata una r? Nice Ho preso parecchi soldi, double kill, shut down, quindi 3 kill con uno shut down grosso La cosa migliore in tutto ciò è che siamo per arrivare al power spike, Yasu si intende È a 1.6, manca poco, manca La cosa migliore in tutto ciò da c'è no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uff, meno male. Grazie. Grazie a tutti. Ok, ok. Ci serviva. Un po' troppo tempo via su non muore, ragazzi. Sta tardando lo spike. No, maledetta Yael. Oh, wait, Baron? Ma hai ragione, ragazzi, sorry. No, 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 no. No, 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 no. Grado poteva anche prendere Sivir per me Sivir per me Non c'era anche Eveline, ve l'ho già ricordato? Possiamo restare mi sa Volevo dare 50 gold a Sivir ma Tadge Tadge Ok Quello che ci serve adesso? Niente, si giara, abbiamo karma e si ritrovi giganti Bukang è tanto utile con la ulti Nice nice Stavo pensando di Flash Rain Però penso sia un po' necessary Non è Rarakan, vero? I am everywhere The dark end is gone Our enemies are next Non è Rarakan, vero? Non è Rarakan, vero? Benda? Maybe? Posso? Nooo Oh, meno male, meno male Meno male, meno male, ragazzi Meno male che hanno trovato Ma comunque è che non campione forte In solo chi ovviamente In competitive fa cagare Però è forte in solo chi No, se non è più forte del meta E ha le sue debolezze ovviamente Quando sono volato controlla Diventa problematico Che non arriviamo ragazzi? Carma decisamente Ah, una bella pasta e lenticchie Fresca, fresca per l'estate Thanks game for following my ping L'ho legit mutato al minuto 2 Sia i ping che altro Non so cosa mi ha comunicato Ma Evidentemente eravamo sulla stessa linea Non so che dire Grazie per il sub Grazie Peter del sub Evidentemente pensavamo alle stesse cose No, le stesse vibe del tizio che sta avventando Della scimmia Evidentemente Tra scimmie Tra scimmie ci si intende Broken